Allora, buonasera, io sono Valerio Mattioli e sono qui per chiacchierare di un libro che è capitato di scrivere a me al sottoscritto, un libro che si intitola Remoria, la città invertita, faccio vedere la copertina appunto a favor di telecamera, è un libro che è uscito ormai qualche tempo fa ed è un libro che, per capirci, tratta del negativo occulto della città di Roma, si intitola Remoria per un motivo molto semplice, Remoria è la città che nella nota leggenda di fondazione sarebbe nata se al posto di Romolo, nella lotta fratricida tra Romolo e Remo che segna appunto la fondazione di Roma, fosse stato Remo, quindi se Remo avesse vinto su Romolo non avremmo Roma, che è la città che prende il nome per l'appunto da Romolo, ma avremmo Remoria, una città che effettivamente non è mai esistita perché la leggenda ci dice che a vincere è stato Romolo, ma che da allora rimane, è rimasta come leggenda, come mito, come mito sotterraneo, anche nell'antichità la città di Remoria era la città occulta, la città dei fantasmi, la città non riconosciuta, come dire, dallo sguardo ufficiale e adesso se c'è una città non riconosciuta dallo sguardo ufficiale, quella è per l'appunto la periferia, periferia che è al centro di questo festival ed è il motivo per cui siamo qui, non tanto a parlare di questo libro, perché non vorrei che fosse appunto una presentazione del libro in senso classico. Il libro non è una storia delle periferie romane, non è un'analisi sociologica della periferia o della borgata di Roma, è quanto meno nelle mie intenzioni voleva essere una specie di racconto, di narrazione, di costruzione di mitologie su quello che la periferia romana ha prodotto all'incirca da 40 anni a questa parte, a partire non tanto dalle narrazioni che vengono fatte sulla periferia romana, le narrazioni sulla periferia romana, lo sappiamo, ormai abbondano e oscillano sempre tra due o tre poli, c'è il polo, c'è il modo, la lettura che la periferia la intende solo in termini di degrado, di crisi da recuperare, è quell'idea che la periferia sia di per sé come dire uno sputacchio che in qualche modo deve essere riassorbito e riportato all'ordine, è l'idea che ti fa dire andiamo nelle piazze dello spazio periferia e suoniamo gli stornelli, insomma queste robe qua che ogni tanto escono fuori grottesche, che diciamo tradiscono appunto tutta la visione che uno può avere di cos'è la periferia romana, oppure c'è, ma di questo appunto parleremo anche nel corso dei minuti che seguono, c'è una, a sua volta una mitologia del degrado se vogliamo, una mitologia del margine, una mitologia della periferia, della borgata, che si accompagna tutta una serie di icone, di narrazioni molto popolari al cinema, nelle serie tv e quello che sappiamo. Nel mio caso volevo invece, diciamo, indagare alcune narrazioni che provenivano dal di dentro stesso, che sono nate delle storie, delle vicende che sono nate all'interno stesso della periferia romana e che, come dire, mostrano un volto di quella che nel libro viene chiamata borgata sfera, molto diversa sia dalle ageografie, come dire, neoromanesche che della periferia vengono date, sia dalla retorica sul degrado ora imperante. Quello che mi interessava era leggere anche tutta una serie di figure che, dal mio punto di vista, come dire, in qualche modo hanno incarnato quelli che sono gli essenzi, che sono l'essenza, diciamo, dell'immaginario del margine, in particolar modo in una città come Roma. Il libro, dicevo, affronta più o meno gli ultimi 40 anni di vicende, parte da un film di culto come Amore Tossico, che si ambienta nella hostia dei primi anni Ottanta, passa per una figura che nel libro è fondamentale, è pivotale, come quella di Stefano Tamburini, che è stato l'autore di Rancserox, il creatore di una rivista come Frigider, un borgataro del quartiere Talenti, che a sua volta crea un immaginario, un'iconografia molto, molto potente e totalmente altra rispetto alle classiche istantanee che abbiamo della periferia romana. Rancserox è sostanzialmente un fumetto proto-cyberpunk, Frigider fu una rivista di estrema avanguardia nel contesto dei primi anni Ottanta, è un mondo in cui si confondono atteggiamenti devianti, elettrificazione imperante, il mondo delle bande giovanili, del punk, delle bande metropolitane, che poi passa per una stagione altrettanto importante, qual è stata quella dei rave parties, della cultura tecno, che proprio nella periferia romana ha rappresentato un unicum anche a livello nazionale, ma direi anche non solo. Man mano si arriva all'oggi, si passa per la cultura rap, per fenomeni come il Troce Clan, che magari non sono stati un parto diretto della periferia, ma che in qualche modo con le loro creazioni hanno lasciato un segno sulla periferia stessa e su un modo di raccontare questa città, questa città che è Roma e che poi di fatto coincide con la periferia romana stessa. Perché, per chi non lo sapesse, il centro di Roma rappresenta all'incirca l'1% del territorio comunale e se l'1% è il centro significa che il 99% del territorio è altro e se non è il centro che sarà mai. Sarà periferia forse. Allora, dicevo, non volevo fare una... ho raccontato più o meno sommariamente quali sono i contenuti del libro, ma d'altronde non sono io la persona più indicata a parlare del libro in sé. Però, dicevo, non volevo che questa fosse una presentazione e quindi ho chiesto di parlare di questi argomenti a altre due persone che sono con me su questo palco, Sara Gainsford, che è una ricercatrice e che molto si è occupata di fenomeni urbani e il tuo ultimo libro è... adesso stai scrivendo, diciamo, un saggio sull'abitare, sulla casa, ma il tuo ultimo è... oltre il turismo... oltre il turismo... prima ancora Airbnb, città e merci... Airbnb, città e merci, che diciamo, per chi si occupa di politiche urbane, di narrazione sulla città, senz'altro ha incontrato il nome e gli scritti di Sara Gainsford, perché è una delle più attente lettrici dei fenomeni urbani che stanno ridisegnando, in particolar modo, le periferie delle nostre città, di Roma e non solo, e poi c'è Tommaso Arnaldi, Tommaso Arnaldi, qua alla mia sinistra, che è impegnato al momento in un duo di videoarte chiamato Vega, che a sua volta, da qualche tempo a questa parte, sta facendo un prezioso documento di recupero e, come possiamo dire, riconfigurazione di un certo bagaglio culturale artistico romano, adesso non voglio andare troppo per le lunghe, però per esempio tra i progetti che stanno portando avanti adesso c'è un lavoro proprio sul frigiderio di cui parlavamo prima, quindi su una figura come Stefano Tamburini, ma a sua volta Tommaso è stato tra gli artefici di quel fenomeno complesso, sfaccettato, che è stata la Dark Polo Gang, che è probabilmente il nome che nell'immaginario pop dell'ultimo decennio più ha segnato l'immagine di Roma anche al di fuori di Roma stessa, la Dark Polo Gang viene sommariamente per lo più descritta come un gruppo trap, probabilmente il gruppo trap per antonomasia della scena italiana degli ultimi dieci anni, ma a sua volta la Dark Polo Gang è stato un progetto molto sfaccettato e molto, come dire, studiato, se vogliamo, diciamo molto pensato per come si è presentato e per quello che voleva rappresentare. In Remoria la Dark Polo Gang compare veramente all'ultimissimo, perché il libro più o meno si arresta diciamo una decina d'anni fa, non voleva arrivare troppo all'oggi, però per quanto mi riguarda la Dark Polo Gang, periferia o non periferia che sia, è, come dire, l'ultimo anello di quello che personalmente ho chiamato il Dark Continuum, diciamo, di un certo mondo in particolar modo musicale romano, un continuum, nel senso una serie di passaggi di testimoni che segnano l'underground romano quanto noi dagli anni Ottanta a oggi e che passano appunto dal punk alla techno, al rap, alla trap e tra tutti questi passaggi c'è sempre stato uno scambio, una serie di veramente passaggi di torcia olimpica che si concretizzano poi in alcuni personaggi in particolare, nel caso della Dark Polo Gang, C. Luke, che è l'autore delle basi della Dark Polo Gang, è a sua volta il figlio di Duke Montana, che a sua volta, diciamo, fu, come dire, apparteneva alla sfera del Troge Clan, che a sua volta traeva origine dalla scena rave, insomma, e si va a ritroso nel tempo, quindi mi sembrava interessante coinvolgere, come dire, queste due figure molto, come dire, non agli antipodi, non antitetiche, ma che comunque sono in grado di leggere la realtà romana da due prospettive molto diverse, che sono poi le due prospettive del libro di Remoria in sé, e comincerei a questo punto proprio da Tommaso, io appunto ho appena accennato a questa mia idea di Dark Continuum, che non è semplicemente... Dark Continuum perché l'ho chiamato così? Perché innanzitutto è un... è un continuum di suoni, di atmosfere Dark, per l'appunto, Dark Polo Gang è il nome che si è dato alla crew di cui hai fatto parte. Dark nel senso di sonorità oscure, atteggiamenti, come dire, ombrosi, un'immagine totalmente antitetica agli stornelli romani che ci portano in piazza, ma che ci frega, ma che ci importa, per risanare le periferie dallo spaccio, ma al di là di questo, questo Continuum è stato anche un contenitore di quelli che comunemente vengono intesi come comportamenti e atteggiamenti devianti. Devianti significa fuori dalla norma, fuori dal comunemente accettato. Così come fuori dal comunemente accettato è il margine, è il bordo, è la periferia, quindi diciamo comportamenti e linguaggi che in qualche modo tradiscono quel pedigree lì. Comportamenti che riguardano ovviamente non solo la sfera creativa, quindi la sfera musicale in questo caso, o l'immagine in senso lato, ma riguardano anche la sfera dei rapporti di genere, del rapporto con la città, con l'asfalto e il cemento della città stessa. Quindi dal tuo punto di vista, diciamo, questo Continuum, in cosa sta? C'è innanzitutto, te lo chiedo, è una allucinazione mia personale, da qualche parte esiste e come si esplica? Sicuramente è un po' un'allucinazione tua. Diciamo che sicuramente... Però di allucinazioni si parla spessissimo. È chiaro, infatti è la Dark Polo Gang un'allucinazione, se non altro, è un'allucinazione di qualcosa che è avvenuto in America principalmente, come lo è stato poi magari la musica tecno, comunque tutto quell'immaginario che poi ha anche riportato il Truce Clan, di cui la Dark Polo Gang in qualche modo è stata erede, pur non considerandolo tale, sicuramente tutti noi da ragazzi sentivamo quello, cioè ascoltavamo la Dark Polo Gang da ragazza, ascoltavamo il Truce Clan ed erano una specie di esempio, diciamo così. Qui comunque sul passaggio del testimone c'è anche un passaggio di DNA, mi sembra. in qualche modo degli atteggiamenti, degli elementi, delle tematiche si riportano sempre un pochino con dei dettagli, diciamo, non nella sua integrità. La Dark Polo Gang non rispecchia poi l'immaginario del Truce Clan, effettivamente rispecchia piuttosto un immaginario americano, come il Truce Clan rispecchia un immaginario americano, unito a un immaginario europeo, come prima di loro la wave, diciamo, della musica, dei rave, di tutto quel filone di persone, alla fine non era molto americana, era molto più europea e prima ancora, seguendo sempre la traccia del tuo libro, c'è la Roma pasoliniana che dell'America non ha nulla. Quindi allontanandosi sempre di più da quel punto di inizio del tuo libro, arrivando alla fine ci si avvicina sempre di più un po' a un'estetica americana, mi sembra, anche nel sound, anche nella ricerca estetica e negli atteggiamenti. e questo è perché viviamo in quest'era e anche Pasolini l'ha personalmente anticipata, in qualche maniera portandoci a capire che stavamo involvendo in qualcosa di non appartenenza ma di scimmiottamento in alcuni casi o comunque di riproduzione. Quello che penso della Dark Polo Gang a livello estetico e come proprio simbolo rappresenta un po' una versione americana del Rugantino. Possiamo riassumerla in questo. Nella parte invece estetizzante e forte, con una forte predominante Dark, diciamo così, per dire proprio la parola esatta, devo dire che chiaramente c'è proprio una ricerca che poi si stabilisce anche in delle fondamenta che tu hai stabilito dicendo l'espressione gotico-cosmico-mediterraneo, se non sbaglio, che è qualcosa che in realtà ci caratterizza a tutti noi che viviamo a Roma e a tutte le generazioni, nonostante le diverse ispirazioni. Quindi il gotico-cosmico-mediterraneo secondo me è anche più del Dark come elemento che porta avanti poi tutta l'estetica sia a livello di sound sia a livello di ispirazioni che proprio di traduzione. Chiaramente per come è nata a livello proprio cronologico la Dark Polo Gang Sick Look è stato un elemento quasi nel giro di boa della formazione, della definizione di maturità e di estetica della Dark Polo Gang. Lui è stato un giro di boa che diciamo è un po' quando fai il nodo alle scarpe, quando metti l'altro nodo sotto e chiudi e ha perfettamente collimato l'estetica che era molto estrema però ancora non definita e un sound che comunque la città di Roma richiedeva perché anche dalla nascita del Truce Clan alla nascita della Dark Polo Gang passano molti anni e in quegli anni oltre a lo stabilirsi del Truce Clan all'interno di una diciamo Olimpo, possiamo dire dell'underground ancora perché poi la Dark Polo Gang è arrivata quando è arrivato Instagram che comunque è stato il mezzo di affermazione delle piccole realtà più di tutto e di affermazione a livello mainstream, quindi i numeri sono cresciuti enormemente proprio dal 2014, 2015, 2016 in poi anche in America, in tutto il mondo proprio tramite i social media e Instagram è il social media per eccellenza in quanto quasi esclusivamente immagine e quindi per tornare a Sikluk e al suo ruolo chiaramente nel suo DNA effettivamente più che nel nostro c'era questo elemento del Truce Clan anche il padre Sikluk, Duke Montana, è stato uno dei primi graffittari di Roma per esempio e portava con sé un'estetica, Sikluk ha vissuto i primi anni della sua vita a Las Vegas cioè loro avevano anche dentro a livello culturale molto più l'America di noi che invece eravamo comunque rugantini in qualche maniera rugantini ma non tutti perché per esempio Pyrex che è anche colui che ha dato il nome Dark Polo Gang, chi ha avuto l'illuminazione o la scossa elettrica è stato comunque figlio di un'americana, è stato molto a New York, è madrelingua quindi chiaramente è molto più legato alla lingua inglese di noi altri, di noi altri anzi e chiaramente lui ha riportato anche quell'estetica più americaneggiante rispetto agli altri infatti secondo me a livello poi sommario la Dark Polo Gang all'interno del prodotto Dark Album The Dark Album che è il disco da solista del 2016 di Pyrex che ha chiuso diciamo la famosa, per i fissati, la famosa trilogia che è Crack Musica, il primo disco, Succo di Zenzero e The Dark Album The Dark Album è stato secondo me quello che più è all'interno del tuo discorso già solo dalla copertina che tra l'altro ho fatto io insieme a lui insieme al gruppo con cui lavoravamo c'è la sua figura immersa nel vuoto, nel nulla, nel dark continuum elettrificata, quindi è proprio Rankserox ed è Frankenstein alla fine e anche a livello di sound forse è il più cupo in generale tra i dischi a parte il primo che era comunque un piccolo esperimento che si chiamava manco mi ricordo il nome, però comunque era molto cupo e il sound di Cicluc era molto figlio di quella wave romana del Truce Clan che per l'Apsus continua a chiamare Dark Album Gang evidentemente il continuum è proprio... esatto, veramente è ancora vivo e quindi sì sicuramente noi abbiamo un po' raccolto quell'eredità estetica nonostante gli anni di differenza e nonostante anche l'intento differente e però diciamo col tempo si è anche molto mutata quello che vedo rispetto a tutte le scene che racconti anche tu nel libro è una costante presenza sotterranea che si riproduce in quella successiva perdendosi e morendo ma comunque lasciando un po' un suo bagaglio genetico in qualche maniera interessante appunto quello che dice sul rapporto in questo caso con l'America, con il fuori perché? Perché tutti questi linguaggi siano essi musicali, estetici e così via spesso appunto provenendo da fuori vengono considerati dai commentatori ufficiali per definizione altri e strani rispetto a un supposto linguaggio autoctono nel caso specifico della città di Roma e poi vediamo invece come attecchiscano e vengono spontaneamente assunti come linguaggio naturale in particolar modo per le generazioni giovani e in particolar modo per i famosi fantomatici giovani di periferia quello che viene spesso accusata, veniva spesso accusata da Arcolo Gang che semmai appunto era un prodotto di ragazzi del centro che non avevano un diretto contatto con come dire la realtà steripatamente gangsta della periferia romana e che quindi però appunto se qualcosa in realtà la periferia, il dark continuum della borgata ci insegna è che la nozione di street credibility, di essere reali, del keep it real che è tipico della retorica stradaiola ufficiale viene meno tutti questi linguaggi perché la tecno attecchi tanto in borgata cioè la tecno è una roba del nord Europa, anzi è una roba appunto di Detroit, americana per carità, che però si diffuse con i rave soprattutto in nord Europa una musica tecnologica, cibernetica, tutto il contrario delle perifere romane sgarupate, vecchie, piene di ruderi e monnezza e invece proprio in virtù della sua artificialità questa tecchì in periferia perché appunto la periferia è, diciamo, dal mio punto di vista l'elemento che mette in crisi il principio di identità e di autenticità però appunto questa è una visione, è una lettura dall'altra parte e qua di nuovo se vogliamo rientra il rapporto problematico tra periferia e centro, questi linguaggi sono perennemente a rischio di sussunzione da parte del famoso, fantomatico, famigerato, cattivissimo centro che cerca in qualche modo di farli... all'inizio non se ne accorge mai non esistono mai questi fenomeni neanche sa cosa sono, il centro è sempre un po' come dire il centro in senso metaforico, non necessariamente il centro geografico della città il mainstream, il potere, chiamiamolo come diceva, non se ne accorge sono fenomeni lontani, stupidi, che non meritano attenzione poi se ne accorge sempre troppo tardi e cerca di farli provi e di metterli a prodotto una volta sarebbe detto di commercializzarli e questo però ha una ricaduta, ha avuto specie negli ultimi vent'anni una ricaduta reale e concreta nel modo in cui la stessa città di Roma guarda a se stessa, in particolar modo al suo bagaglio borgataro, periferico chiamiamolo come ci pare, prima tu di sfuggita hai citato Pasolini perché Pasolini si deve sempre citare quando si parla di periferie non si può non citare, noi a Roma abbiamo un quartiere intero quartiere che fino a vent'anni fa era considerato un nulla uno sputacchio appunto, non c'era nulla di interessante tutto un po' rovinato, un po' ultra popolare dove per lo più c'erano le comunità trans gli immigrati che si piantavano lì e che ha avuto il privilegio di essere stato il set per delle opere molto importanti per Paolo Pasolini e l'immediato dopo guerra da questo è stata creata un'identità che da sola una narrazione, dovremmo dire che da sola ha fatto ha completamente ribaltato le sorti di quel quartiere quel quartiere ovviamente di cui sto parlando è il Pigneto col risultato che il Pigneto proprio in virtù dell'essere questo quartiere brutto di periferia, rovinato, cadente cioè proprio per quello è diventato motivo di attrazione sul mercato immobiliare i mercati immobiliari sono schizzati verso l'alto ora vediamo lo stesso processo in azione in un'altra borgata storica che tra l'altro non a caso in Remoria occupa un ruolo centrale quello è Centocelle io sono cresciuto tra Torre Maura e Centocelle ma onestamente quando ero ragazzino immaginarmi che a Centocelle ci sarebbe stata una fila di birrerie artigianali e turisti quando c'erano turisti che vengono da fuori a bersi i vini biodinamici insomma mi sarebbe venuto da ridere e invece vediamo adesso Centocelle che è una parata continua di locali, localetti, aperitivi per il drink e anche l'Avalor immobiliari che si alzano allora per chi di questi, dei linguaggi di cui parlavamo con Tommaso è stato come dire protagonista è chiaro che diciamo finalmente essere riconosciuti a un certo punto dà anche una sua soddisfazione insomma è sempre bello l'underground è sempre come dire eroico stare lì e combattere sottoterra però ogni tanto diciamo qualcuno si accorga di te è comprensibile che dia una sua soddisfazione al tempo stesso come questi linguaggi poi finiscono per essere commercializzati appunto come avremmo detto cosa hanno prodotto mi viene in mente cioè in che modo gli esiti di questi dell'appropriazione da parte del centro del mainstream di questi linguaggi ha portato poi a delle esperienze becere per quanto riguarda una, non lo so lascio dire a te insomma magari riguardo più il quartiere di San Lorenzo che non i quartieri di cui stiamo parlando però appunto come si è concretizzato e come questi cambiamenti questo nuovo modo di messa a prodotto del margine poi stanno cambiando non solo l'aspetto della nostra città ma proprio il vivere all'interno di questi quartieri lo chiedo a Sara ovviamente si citava prima la parola bagaglio immaginario insomma cultura come dire tutte le espressioni appunto immateriali e simboliche di una cultura nata appunto spesso ai margini nell'illegalità nei contesti di autogestione e via dicendo questo viene come dire come dicevi tu sussunto no? catturato preso e appunto riprodotto copiato però in una maniera completamente svuotata di senso cioè vengono appunto queste espressioni vengono purificate di qualsiasi forma di in realtà di contenuto e quindi di conflitto e contribuiscono semplicemente alla creazione di valore economico cioè non più sociale come lo sono appunto mentre nascono queste espressioni culturali nascono molto spesso al di fuori dei contesti economici e di mercato proprio perché non potrebbero nascere perché il mercato non prevede spazi di sperimentazione per esempio come sono stati tantissimi centri sociali a Roma molti dei quali sgomberati prevede soltanto appunto la commercializzazione per cui questi linguaggi vengono costantemente copiati e però appunto in questo modo insomma che all'inizio può anche generare confusione no? io ho scritto sia per esempio del tu citavi prima il libro su Airbnb di questa quella che appunto all'inizio è stata raccontata come una pratica di condivisione della casa per cui no? c'era tutta questa retorica regata a una pratica appunto di condivisione mentre anche lì si tratta di un'attività economica oppure no? ci sono tantissimi esempi di questo meccanismo dove questi contenuti culturali contribuiscono fondamentalmente a generare valore economico e nello specifico valore immobiliare perché è quello no? il motore diciamo economico che genera la crescita appunto economica basata sulla rendita come sempre soprattutto a Roma e quindi appunto siamo magari dopo ne parlo un po' più in dettaglio perché in realtà è interessante analizzare i tanti aneddoti cioè io ho provato anche in altri articoli che ho scritto un po' a ripercorrere anche la proprio la genealogia di questi processi e infatti questo libro in realtà è come se fosse un po' la parte precedente per alcune cose che io sto vedendo è un po' all'origine e quindi appunto il caso per esempio della street art è oggi evidentemente diventato uno strumento di creazione di valore immobiliare che se tu dici da una parte bello siamo riconosciuti dall'altra significa che poi i valori immobiliari aumentano e noi veniamo insomma espulsi perché non riesciamo più a pagare con gli affitti a sostenere quei costi perché la città diventa cara e questa è appunto la gentrificazione la creazione di spazio urbano per utenti sempre più ricchi e quindi noi appunto questo poi è un po' la classica cosa che si dice sempre il primo segnale è l'arrivo degli artisti ma poi in realtà gli artisti non sono agenti della gentrificazione è il mercato immobiliare che poi dopo arriva e mette a valore la loro espressione io volevo raccontare soltanto appunto due secondo me due casi specifici perché poi parlandone nello specifico è molto più semplice è anche divertente in qualche modo per quanto tragico insomma da capire e io appunto nel tuo libro insomma mi ha colpito proprio perché io ho vissuto anche questa la stagione dei ravi illegali di cui tu racconti che erano appunto tu parli di geografie parallele della città esplorazione di spazi cioè di tutto ciò che la città non è erano veramente luoghi a margine questi capannoni industriali abbandonati e via dicendo occupazioni temporanee di luoghi realmente occulti nascosti non solo all'occhio di chi quei posti li sfiorava inconsapevolmente nella vita tutti i giorni ma della città stessa e in quei posti si celebrava un rito allora quella esperienza lì era fondamentalmente c'era un'esperienza in cui l'uso dello spazio ne determinava come dire la funzione per una notte no? c'era questo uso collettivo che tu descrivi e la cosa secondo me interessante è che tutto questo questo immaginario dei ravi illegali viene a un certo punto ripreso e copiato intorno io ho cominciato ad accorgermene nel 2014 è abbastanza appunto divertente perché nascono questi questi che i parti non so se che tutti abbiamo frequentato che voi avete frequentato io no però io da fuori guardavo e mi faceva ridere questo fatto appunto che in realtà che i parti coglievano questo aspetto della sorpresa del non sapere l'indirizzo fino alla fine come era per i ravi illegali no e però appunto Weiss descrive nel 2014 in che parte scrive l'ingresso ve lo dovete sudare noi siamo riusciti a guadagnarci un mix esclusivo quindi c'era anche un po' però ho capito questa caratteristica dell'esclusività cioè che i ravi illegali non avevano e quindi un po' come il Berghain a Berlino diciamo siamo là però questa cosa mi colpisce perché dove nascono secondo Weiss poi vai a capire ma non era l'unico articolo che io lessi all'epoca ma proprio in curiosità nascono in un loft a largo del tritone quindi in pieno centro quindi è proprio è una casa c'è un'abitazione privata e quindi è proprio da questo punto di vista è un po' l'opposto del reivi illegale però tutto quell'immaginario di quello che poi alla fine di fatto a Roma manca cioè che è l'inaspettato perché parallelamente appunto a questi meccanismi di sostunzione tutte le realtà appunto sociali citavo prima i centri sociali che invece producevano cioè che neanche solo che producevano cultura che però sono spazi dove l'inaspettato può accadere cioè non sono predefiniti predeterminati eccetera ecco quelli sono stati distrutti cioè quel tipo di realtà sono state completamente represse sgomberate e via dicendo per cui non c'è più appunto in qualche modo a Roma quello che io penso oggi manchi almeno a me poi magari invece le generazioni successive fanno altre cose di cui io magari non so nulla però manca quell'elemento anche di sorpresa e questa cosa qui invece caratterizza questo tipo di invece iniziative organizzate da questo giro che poi io mi sembra che poi vada a confluire in quello che poi diventa la ex dogana San Lorenzo che appunto anche quella realtà lì che continua insomma con questa narrazione con questa retorica della sorpresa dello spazio di spazi vuoti abbandonati di Roma da scoprire ma quelli sono spazi in vendita cioè sono spazi che il pubblico ha venduto e che non riesce in realtà a vendere perché comunque il mercato immobiliare a Roma in verità non è che vada poi così bene e quindi deve valorizzare e deve valorizzare rendendoli attrattivi se voi andate sul sito di di Cassa Depositi e Prestiti che è caricata di vendere questi spazi come appunto l'ex dogana oppure Guidoreni il palazzo degli esami a Trastevere dove lì non è stato fatto nulla però ecco un altro invece l'ex Zecca dello Stato che era questo edificio enorme bellissimo dismesso Cassa Depositi e Prestiti li dà in gestione a queste società di comunicazione che vi organizzano feste ed eventi e appunto c'è proprio scritto sul sito di Cassa Depositi e Prestiti che questi eventi servono a aumentare l'attrattività immobiliare quindi insomma questo tipo di dinamiche io ho citato solo pochi esempi però appunto intorno a secondo me al 2014 alcuni appunto attori del mondo immobiliare li captano per esempio appunto Cassa Depositi e Prestiti insomma chiudo dicendo semplicemente che appunto mentre nascono i Key Party che mi facevano appunto molto ridere nasce anche all'ex dogana di San Lorenzo la prima mostra di street art al chiuso a pagamento e di là insomma San Lorenzo ha vissuto anni di appunto di interventi di gentrificazione in cui mentre da una parte vengono cancellati murales storici per esempio in Via De Volci i costruttori lì che devono aprire insomma i vari studentati privati nel quartiere finanziano invece la realizzazione di altri super mega murales che adesso hanno riempito il quartiere e che però appunto sono pagati dalle società immobiliari che lì stanno facendo mini appartamenti di lusso senti prima di tornare a Tommaso a cui voglio chiedere ci avviciniamo verso la conclusione voglio chiedere a Tommaso una cosa molto legata a questo a quanto diceva Sara però invece a te a Sara vorrei proprio chiederti ok questi fenomeni appunto che hai raccontato mi ricordo molto bene anch'io e qua subentra come dire un problema duplice che però a tempo stesso diciamo sono due facce della stessa medaglia da una parte tu dicevi appunto fenomeni come che i parti recuperavano rubavano sottravevano diciamo in qualche modo quelle che erano le delle dinamiche tipiche di una cultura qual era quell'underground e reve e così via e questo era palese a chiunque e là se vogliamo c'è come dire banalmente il fatto che certe pratiche pioneristiche alla fine col passare degli anni diventano un po' lingua condivisa e quindi in qualche modo fuoriescono da quello che era il bacino originario che quelle pratiche le adottavano e questo è un come dire un processo un fenomeno che più volte si a cui più volte abbiamo assistito e contro il quale come dire non personalmente non penso ci sia molto da fare se non a sua volta inventare pratiche nuove e quello forse che invece mi pare che sia mancato in quel frangente temporale proprio che indicavi te è dall'altra parte va bene assistiamo a questi fenomeni a queste operazioni che si possono concretizzare appunto in questi meccanismi di gentrification misto a messa a prodotto di cultura andregale e così via però sai quando negli anni boh non lo so 90 il mainstream scopriva 15 anni dopo il punk e provava a fare i soldi col punk e uno diceva ma chi se ne frega di questi sfigati abbiamo appunto i rave siamo molto più avanti quello che invece sembra venire meno è una controparte altrettanto forte altrettanto potente in grado di tenere testa a questi fenomeni è solo il mio pessimismo come dire diciamo o pensi ci sia anche un problema come dire di rinnovamento dei linguaggi da parte dell'underground chiamiamolo così o comunque delle pratiche altre devianti e forse sono ancora molto legate a degli schemi ma guardami per te mi veniva in mente mi ha detto un mio amico recentemente lui di Venezia abita a Venezia dice loro devono continuamente cambiare bar dove vanno dove si vedono perché vengono continuamente scoperti dai turisti e quindi si devono spostare insomma la ricerca di spazi ancora non colonizzati praticamente da questa logica di mercato in realtà il tema è molto difficile io credo che già sarebbe un grande passo avanti c'è prendere consapevolezza e comunque dibattere parlare di più delle nostre no del momento perché poi che fai smetti di fare certe pratiche per esempio adesso va tanto fare le visite guidate dei tour per quartieri anche dello street art eccetera eccetera che sono sempre appunto cioè esperienze e pratiche che stanno sempre un po' sul confine il problema è chiaro che non è che tu puoi smettere di fare determinate cose perché altrimenti sai che verrai sussunto però sicuramente Roma secondo me bisognerebbe mettere a tema questo problema ma mettere a tema non soltanto questo mettere a tema cioè che tipo di cultura vogliamo perché appunto questa la possibilità affinché insomma nuove espressioni nascano è stata abbastanza minacciata secondo me insomma soprattutto dai tanti sgomberi negli ultimi anni si troveranno sempre i modi e le forme per inventare nuove espressioni culturali però questo non è stato secondo me molto elaborato per cui anche nel rapporto poi tra vari soggetti anche nel rapporto con l'amministrazione questo avviene anche il festival stesso delle periferie se vogliamo fatto con l'amministrazione è riempito di contenuti che molto spesso sono stati prodotti altrove e questo è normale che accada però c'è bisogno di una riflessione su questo cioè sul fatto che comunque a Roma davvero negli ultimi anni c'è tanta tanta cultura è stata completamente insomma spazzata via dispropriata a Tommaso diciamo gli ultimi dieci minuti allora in Remoria stesso quello che mi interessava chiederti nel libro che ho scritto si citano tantissimi luoghi tantissimi spazi pubblici centri sociali luoghi dove venivano organizzate feste locali quello che è diciamo erano tanti punti sulla mappa quello che era interessante spesso di questi luoghi che proprio sorgevano in anfratti totalmente fuori dallo sguardo appunto del mainstream come per esempio l'estrema periferia le infiniti distese fuori dal raccordo anulare e così via e quindi diciamo per chi partecipava a questi linguaggi a queste esperienze c'era anche una dimensione veramente di esplorazione urbana molto molto vissuta concreta Sara appunto si lamentava del venire meno di queste realtà e parallelamente appunto tu che appartieni invece a una generazione molto più recente correggimi se sbaglio però questa mitologia del luogo del luogo tempio dello spazio nel quale ti riconosci semplicemente andando lì presenziando con la tua figura lì in qualche modo viene meno e tutto viene diciamo virato in una chiave un po' più introversa che è sia domestica tante feste in casa però appunto sia che ovviamente richiama tutto diciamo il rapporto che abbiamo con i social media con l'esperienza online in cui non è necessaria la condivisione reale concreta dei corpi ma come dire lo sguardo dal dentro al fuori dell'esperienza condivisa della storia condivisa a quello che è allora molto semplicemente questa assenza di geografie fisiche alternative quanto ha impattato in positivo in negativo è stato un non tema un tema che vi siete mai posti parlo proprio appunto da un punto di vista di l'idea di semplicemente avere un luogo dove esternare e presentare al mondo lì fuori fuori dalla rete non c'è mai ormai come ho già detto a trap cioè nel senso la il tempio è la casa e quindi per queste generazioni cioè la mia contemporanea ma anche quelli più giovani di me comunque soprattutto in quest'ultimo anno la casa è diventata effettivamente la strada la scuola e tutto nel senso il luogo in cui veramente avviene tutto anche l'impossibile che poteva avvenire alla fintech per esempio non ci diamo casi di cronaca però comunque fa paura il fatto che effettivamente c'è questo riscontro all'interno delle mura domestiche di tutto ciò che anche c'è più di violento e scabroso al di fuori al di fuori anche del centro per quanto mi riguarda a livello proprio mio personale io venendo comunque diciamo dalla periferia comunque sono cresciuto Battistini in quella zona lì sono nato a Prima Valle ora vivo a Val Cannuta che è praticamente oltre casa mia ci stanno le pecore e comunque io ho sempre la mia zona di esplorazione poi alla fine era il centro anche perché i centri sociali quei punti di riferimento nel mio tempo erano meno e meno accattivanti meno era la crisi appunto che cercavo di rinunciare esatto infatti il key party per me era una cosa fica comunque a 18 anni 19 anni era una cosa fica che oggi è riguardo con meno ambizione e o comunque meno affezione infatti sento che dopo quest'anno comunque per quanto mi riguarda e per quanto riguarda le persone con cui sto a stretto contatto al momento lo spazio condiviso e soprattutto l'inaspettato sono un tema effettivo un tema effettivo sul quale abbiamo diciamo persone che ci sentiamo un po' una generazione di mezzo in questo momento perché non siamo più giovani ma non siamo neanche adulti veri e propri è un tema che vogliamo riportare sia da una parte che dall'altra cioè sia agli adulti cioè il nostro bisogno di questi spazi sia ai più giovani ovvero il loro bisogno di questi spazi che è completamente ancora non maturato per quanto riguarda nello specifico il fenomeno del Polo Gang noi ci siamo conosciuti tutti in piazzetta in piazzetta a Santa Caterina della Rota che era dove c'era il bar Perù ma non facciamo pubblicità però Monserrato è Monserrato esatto per quelli più anziani invece vedi è il Monserrato esatto piano centro esatto piano centro però un piano centro comunque a tratti abbastanza selvaggio ricco di di poli poli ambientale e poli culturale c'era chi veniva da Boccea c'era chi veniva da Rione Monti c'era chi veniva da Trastevere chi veniva da Vall'Aurelia chi veniva da Ostia chi veniva anche dal Brasile cioè c'erano proprio comunque era un bel melting pot che comunque rispecchia anche un po' la contemporaneità che comunque Roma è una città una città che ha subito molte la gentrificazione e il fatto di essere una capitale e doverlo essere obbligatoriamente però allo stesso tempo ci sono sempre delle infiltrazioni diciamo remoriane e anche cioè io conosco famiglie del centro che comunque non sono proprio borghesi ecco e quindi comunque uno spazio c'era ma diciamo che con la capitolazione dello spazio è avvenuta la vittoria del social media semplicemente e la casa è diventata il tempio del social media quindi ecco sì sì non vorrei dire una banalità però ovviamente queste sono tematiche che nel contesto attuale in cui lo spazio pubblico adesso siamo qua in una situazione semi pubblica semi semi condivisa ci sono le le poltrone con scritto vietato sedersi qui quindi appunto cioè nel contesto attuale ancora di più distopico lo spazio intimo domestico diventa lo spazio della quanto meno della autorappresentazione e per quanto riguarda lo scambio il contatto con l'altro questa è una grande incognita e se storicamente per esempio il centro storico di una città come Roma ha sempre rappresentato un crocevia dove potevano confluire diverse tribù provenienti dagli angoli più disparati della città per le periferie stesse questo rientro questo moto introverso diventa assai più problematico perché sai se vai se stai là al centro e scendi hai solo casa tua ma casa tua sta via monzerrato tutto sommato insomma un po' te la godi certo se stai invece a carcaricola puoi vedere tutto al più il raccordo anulare dalle finestre case comunque diciamo il suo fascino c'è là e vedi senza altro al corrigente uno struscio meccanico macchinico e quindi accelerazionista e quindi ci piace vabbè mancano due minuti penso insomma possiamo salutarci qui a meno che non avevate cose io volevo solo dire al volo questa sulla questione dello spazio secondo me perché un po' l'abbiamo citato prima il problema adesso cioè questa esigenza del controllo dello spazio ma fondamentalmente di quale spazio quello che non è privato quello pubblico quello comune e quindi c'è questa identificazione dello spazio privato di proprietà con la proprietà con la sicurezza il decoro eccetera invece tutto il resto è vuoto che è una meccanica una logica un po' coloniale per cui lo spazio vuoto fa paura e quindi va o recintato e chiuso oppure appunto gentrificato con interventi privati e via dicendo e quello è proprio secondo me un po' anche il cuore del problema di quello che dicevamo prima cioè invece di avere degli spazi dove non si sa quello che può succedere cioè quello invece secondo me è vitale perché la città è vitale per questo perché sono spazi di incontro e dove tu devi anche dare la possibilità alle cose di accadere senza pianificare a priori un terrorismo situazionista forse è ciò di cui abbiamo bisogno una mia vecchia tesi era risignificare i centri commerciali visto che sono la presenza ormai più più invadente più distintiva delle in particolar modo delle periferie romane a questo punto visto che ci stanno proviamo a vedere come possono essere ribaltati perché chissà mai magari è possibile come una volta i muretti davanti al bar hanno dato vita a sottoculture intere chissà mai che skateando sui tapirulan di Cinecittà 2 non possa nascere o del centro commerciale delle torri che sta qui accanto possa nascere qualcosa di interessante buttiamo lì grazie mille niente saluto Sara saluto Tommaso ciao grazie alla prossima grazie a tutti